Catania, espugnato fortino della droga a San Cristoforo, tre pusher arrestati dai carabinieri. Ennesimo colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania, che hanno arrestato tre pusher con circa 15 grammi di cocaina, 10 grammi di crack e 70 grammi di marijuana sottratte a un redirizzo mercato della droga. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno appunto portato a termine con successo un mirato servizio volta al contrasto dello smercio di droga nel popoloso quartiere San Cristoforo, al termine del quale hanno tratto in arresto, per la detenzione ai fini di spaccio, un 23enne pregiudicato catanese e due fratelli minorenni, di cui il più grande è pregiudicato. I carabinieri hanno scoperto come i tre avessero allestito un florido commercio di stupi e facendi, spostandosi da una precedente sede di spaccio sempre nel quartiere di San Cristoforo, verso via Lonzo e Consoli, a un'abitazione sida al secondo piano di uno stabile a due passi dalla centralissima via della Concordia. Mascaluccia, Catania, servizio straordinario di controllo sul territorio. I militari della tenenza di Mascaluccia hanno messo in campo un dispositivo di prevenzione atto a coprire le principali strade, nonché gli snoti snevalgici del comune di Mascaluccia, al fine di contrastare l'illegalità. L'articolato dispositivo è stato pensato e organizzato per monitorare il territorio nelle ore pomeridiane e serali, con serati controlli all'utente della strada, nonché a tutti gli avventori delle aree di interesse. Via Grande, Catania. La sinergia tra cittadini e carabinieri svende il furto in un casolare. Un gruppo di amici stava trascorrendo una tranquilla serata in un ristorante di Via Grande e parte della comitiva si era regata all'esterno della struttura per prendere una boccata d'aria. Questa situazione, tuttavia, non è stata ritenuta di impedimento alle mire predatorie di un minorenne del posto, che proprio in quei momenti aveva deciso di derubare un casotto di campagna che si trovava là vicino, di proprietà di un 71enne residente anche lui a Via Grande, indrufolandosi all'interno dopo aver diverto parte della recinzione del fondo agricolo. Purtroppo la scena non è passata inosservata ai clienti della trattoria, che avendolo notato hanno chiamato il 112. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero per furto gravato e affidato ai genitori su disposizione della procura per i minorenni di Catania. Il governo Schifani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Una decisione presa nel corso dell'ultima giunta in conseguenza a lungo periodo di siccità e alla rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia. L'obiettivo del provvedimento che adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri è quello di garantire acqua potabile ai cittadini e l'approvvigionamento idrico a settore agricolo e zootecnico, oltre che alle imprese impegnate nei grandi dell'isola. La siccità in Sicilia sta diventando drammatica, dice il presidente Renato Schifani. La regione ha già messo in campo una serie di azioni per mitigare la crisi, aiutando i settori produttivi e limitando i disagi ai cittadini, ma servono anche urgenti interventi statali per operare su reti e sistemi di approvvigionamento idrico e per sensibilizzare i cittadini a un uso più razionale della risorsa. Inoltre sono necessari sgravi fiscali e contributivi, moratorie e sospensioni di adempimenti per le imprese del settore agricolo e zootecnico che sono in gravissima difficoltà. Una relazione della protezione civile regionale indica interventi a breve e a medio termine per mitigare la crisi che prevedono la riduzione dei consumi delle utenze idropotabili, interventi sugli invasi, campagne di informazione e sensibilizzazione per risparmio, interventi per reperire risorse alternative, acquisto di autobotti e silos per la distribuzione di luoghi pubblici, utilizzo di pozzi e sorgenti, riparazione di reti idriche, ammodernamento degli impianti di distalazione nei siti di smessi di porto in pedocle, pacevico trapani ed eventualmente anche gela. Il costo delle azioni a breve termine è di 130 milioni di euro, mentre di quelle a medio termine è di 590 milioni di euro. Open Week Bollini Rosa 2024, in Humanitas Istituto Clinico Catanese, una settimana di visite gratuite per la prevenzione delle donne. Anche quest'anno, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che ricorre il 22 aprile, Humanitas Istituto Clinico Catanese rinnova il suo impegno a fianco delle donne, essendo parte dell'Open Week Bollini Rosa, promosso dall'Osservatore Nazionale sulla Salute della Donna, Onda, che giunge alla sua nona edizione. Dal 18 al 24 aprile, dunque, con l'obiettivo di fare prevenzione e di educare alla prevenzione e alla cura delle principali patologie che coinvolgono l'universo femminile. Gli specialisti di Humanitas offriranno visite graduite dedicate alla salute delle donne. Negli ambulatori di Contrada Cuba, a Mister Bianco Catania, le donne, previ a pennotazione, potranno sottoporsi gratuitamente a consulenze nutrizionali, visite dermatologiche, visite endocrinologiche, visite ginecologiche, ecografie a transvaginali, visite senologiche con ecografie. Il titolare di un noto lavaggio, un 43enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme in materia ambientale, poiché al termine dell'accesso ispettivo da parte dei carabinieri, è stato accertato come l'impresa fosse esercitata in assenza di controllo degli scarichi delle acque a reflui industriali e in carenza delle autorizzazioni allo scarico. Nella circostanza, l'intera area di vita d'orovaggio e tutte le relative attrezzature dal lavoro sono state sequestrate ed è stata disposta la chiusura definitiva dell'attività. Al momento della verifica sono stati trovati 5 lavoratori in nero, in quanto prestavano la propria opera senza un regolo a contratto di assunzione, ed è quindi scattata per il titolare e la maxi sanzione per lavoro nero di 9.000 euro. Il 43enne è stato anche sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 8.500 euro, perché è totalmente sprovvisto delle prescritte autorizzazioni, tra cui la scia, nonché quella attinente la conformità urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria e del formulare per i rifiuti speciali. Le verifiche effettuate presso un altro autologio hanno consentito ai carabinieri di accertare come il titolare, un 42enne catenese, esercitasse l'attività imprenditoriale impiegando tre lavoratori in nero ed è pertanto scattata per lui la maxi sanzione per un importo di 5.400 euro. La fraga un barchino in area saldo ammaltese, a 33.000 a sud-ovest di Lampedusa, e la guardia costiera di Lampedusa recupera 45 migranti e il cadavere di una donna. È caduto durante la notte. A mobilitarsi per salvare i migranti sono stati i militari della motovedetta CP-274, che hanno poi sbarcato i superstiti e il cadavere al molo favorolo. Non risultano esserci dispersi. Aveva 18 anni ed è nata in Gambia da giovane che ha negata durante la notte in acqua e sarmaltesi, dopo che il barchino in ferro sul quale viaggiava è affondato. A identificare il cadavere sono state le cugine di 19 e 18 anni con le quali viaggiava. Due ragazze e i adè sono adesso sotto shock. Il PM di turno ad Agrigento ha già disposto l'ispezione a cadaveri che verrà fatta nelle prossime orne nella camera mortuola del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa, dove il cadavere è stato già portato. L'esame servirà per confermare che la diciattene è morta per annegamento. I 45 sopravvissuti, tutti salvati in acqua, vengono al momento sentiti dai poliziotti e la squadra mobile da questore di Agrigento e stanno confermando che all'appello non manca nessuno. I carabini del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 12 persone accusate di spaccio e sequestrati 20 kg di superfacente e 200 piante. A Ciaculli, i militari della compagnia di Pazze Verdi, nel corso di una perquisizione in case di un 32enne, hanno trovato piantagione con 25 piante di cannabis e quasi 10 kg di marijuana gesticata e pronta per la vendita. La coltivazione con lampade e il sistema di aerazione e di regazione era abusivamente collegata alla rete elettrica. Per il giovane è scattato l'arresto per produzione di detenzioni di sostanze stupefacenti e furto aggravato di corrente elettrica. Nei presidi della stessione centrale, con l'intervento di un'unità cinofila del nucleo di Palermo-Villa-Grazia, i carabini hanno arrestato un 22enne palermitano trovato in possesso di oltre 50 g di ascici. In un sottoscale condominio sono stati recuperati oltre 5 kg di droga. Un altro 22enne palermitano, allo Sperone, è stato arrestato perché trovato di notte per strada con numerose dosi di crack, cocaina e ascici, oltre a circa 160 euro in banconote di piccolo taglio. Nella chiesa sconsacrata di San Nicolò da Tolentino in via del Bosco nella zona di Ballarò, i carabinieri hanno individuato una serie indoor di cannabis con circa 70 piante alte oltre un metro. Made in Italy. La regione siciliana aderisce alle iniziative della giornata nazionale. Tamayo. Celebriamo le eccellenze italiane. Un evento lungo tre giorni che vedrà le imprese mettere in risalto le eccellenze artigianali dell'isola. In questo modo la regione siciliana aderirà alla giornata del Made in Italy, istituita il 15 aprile dall'omonima legge quadro nazionale. L'iniziativa dell'assessorato regionale delle attività produttive, condivisa dal governo Schifani, coinvolgerà le imprese palermitane dal 14 al 16 aprile ed è stata inserita tra gli eventi promossi dal Ministero per l'impresa e il Made in Italy. Le aziende di vari settori come quello tessile del sistema casa, oreficerie e agroalimentare allestiranno nei propri negozi del capoluogo una vetrina che metterà in risalto le produzioni delle maestranze locali esponendo il logo dell'evento nazionale. Archeologia. Copertura del teatro di Eraclea-Minoa. Ecco l'idea vincitrice. Scarpinato. Obiettivo è la valorizzazione del sito. Una sorta di tetto e giardino per coprire i resti dell'antico teatro di Eraclea-Minoa nell'Agrigentino. E' questo il fulcro del progetto che ha vinto il concorso di idee indetto dal Parco della Valle dei Templi con il coinvolgimento dell'Ordine degli Archidetti di Agrigento. L'obiettivo è proteggere l'area degli agenti atmosferici e dall'azione del tempo, ma anche non ostacolare la vista dell'antica cavea, valorizzandola attraverso percorsi accessibili a tutti. La commissione valutatrice, dopo aver selezionato quattro proposte, ha decretato vincitore lo studio Cellin di Padova, guidato dall'architetto romano Francesco Cellini. Secondo classificato lo studio Orliac Battle di Barcellona. Terzo lo studio Camerana, Orbila Engineering di Torino e quarto lo studio Luca Giardino di Milano. Non solo giusto ma è doveroso perché ricordo a me stessa e a tutti quella che è la mission dei beni culturali, ovvero la valorizzazione, la tutela ma anche la fruizione. Noi in questo contesto riusciamo tramite un combinato disposto a tutelare il bene ma nel contempo a renderlo ancora più fruibile. È un momento importante a testimonianza della strategia che si sta ponendo in essere, la strategia afferente ai beni culturali che vede ai nostri siti al centro del nostro impegno. Il progetto è molto complesso, quindi la salvaguardia del teatro dagli agenti atmosferici lo abbiamo studiato e abbiamo visto che la natura è molto tenera di questo materiale e devo dire che il progetto ne garantisce la conservazione ma allo stesso tempo mira la conservazione dell'abitato di Araclamino. Abbiamo cercato di proteggerlo con una copertura più protettiva che desse più garanzie di conservazione di quello che c'è sotto, che non toccasse nulla di antico, che lo proteggesse di più però che riproponesse sopra, essendo copertura, una forma che è quella, non che rifacciamo la cave, non è una cave, però chi visita passando ma ci sale sopra percepirà un po' come era anticamente. Grazie a tutti i nostri spettatori Il coro lirico siciliano è la norma di Bellini nei migliori teatri d'opera di Spagna e Francia. Dalla Francia alla Spagna, attraverso i maggiori teatri di Teulada, Riva, Roja, Cartagena, Gandia, Torrent, Miramas, Clemont, Lugono, Merignac, Santurs, Saragossa, Valencia, Lorca, Cadiz, Massè. Il coro lirico siciliano farà risplendere le magnifiche aree della norma, capolavoro del compositore catanese Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani. Uno straordinario tour europeo che dal 30 marzo al 28 aprile 2024 confermerà la vocazione internazionale del pluripremiato coro, reduce da un ampio ventaglio di successi collezionati nella Cina millenaria. Pagliari Grazie a tutti.